non vedo l'ora di iniziare questo 2024 è stato un inverno molto molto positivo mi ha allenato bene senza senza lesione e sono veramente motivato per questa stagione spero avere delle novità importante nella parte moto la moto 2024 mi sembra più bella da quella dell'anno scorso ha un po più di purple che è un colore che mi piace mi piace molto abbiamo sempre più aerodinamica allora si fa un po un po difficile da capire bene ma a me mi sembra molto bella quest'anno sarà il campionato più lungo più impegnativo e abbiamo anche la pista nuova di kazakhistan si torna in aragon andiamo sull'altro lato al mondo tanto tante gare sarà sarà dura impegnativamente soprattutto a livello non solo fisico ma a livello mentale ma devo dire che ho dei gruppi più più belli da tutto il campionato una squadra spettacolare questo sicuro mi aiuta ma sarà una stagione lunga quando finisce la stagione 24 alessi sarebbe contento con un top 3 gli ultimi due anni l'abbiamo toccato con con le mani ma non abbiamo portato a casa ancora un top 3 nella classifica mondiale e questo è il mio obiettivo per il 24